sono ancora qua dopo le elezioni prima delle elezioni mi sembra che avevo detto che ero sufficientemente un termine giovanile che so che non piace ma incazzato ero incazzato adesso non so cosa dirvi stamattina ero tranquillo stavo scendendo da casa mia verso la farmacia chi ti incontro il galas e il parisi il galas e il parisi che la tua opinione sulle elezioni senti potente guarda sono tranquillo pacifico non fa male alias cominciai mi ha fatto incazzare e mi hanno portato su questa poltrona allora volevano sapere il mio parere sulle elezioni secondo il mio parere ci sono due correnti di pensiero una quelli che si ispirano al detto romano divite et impera dividi e comanda perché se le persone sono divise è più facile a uno potente tenere sotto gli altri il secondo detto corrente di pensiero è un po più osè io l'ho accennato al galas e mi ha raccomandato no il disno te puoi dirlo ma mi dico che è un detto trentino che dice che quelli li ha fatto quella roba lì per far indispetta la sposa e per far indispetta la sposa se battu via le balle detto in termini tecnici i testicoli allora le correnti di pensiero sono due una il divite ed impera dei latini e il divite ed impera di maria teresa austriaca naturalmente che cosa è successo è successo che il basso sarca ha molti rappresentanti per forza gli abbegati tutti tra dei loro e così non abbiamo nessun rappresentante invece che mettersi d'accordo tapparsi il naso e fare una corrente del basso sarca come ha fatto la val di fassa o come l'hanno fatto dalle giudicari e potevamo fare metterci tutti assieme fravezzi e se chiameli de laurenti l'altro l'ottobre che sarà anche qualche di un altro che mi sfugge il nome e fare un gruppo unico ma naturalmente e e queste divisioni su che cosa non lo so perché ognuno vuole l'autonomia bisogna difendere l'autonomia e non so cosa si può fare per difendere l'autonomia fendere barriere non so femi muri in fondo ferme il passaporto per andare in italia per venire in trentina bisogna avere che non so un determinato portafoglio e giù di questo passo allora questa divisione che cosa ha portato ha portato alla vincita di un grosso partito e tutti gli altri i selaciuccia poi c'è quell'altro gruppo perché mi hanno messo su una sedia qua a destra che è un bracciale rosso dall'altro bianco allora a destra mi fanno forse la sinistra andata a destra perché è la sinistra quella che si taglia le balle per fargli un dispetto alla sposa cari signori che lo dicano liberi o uguali ma liberi o uguali da cosa è qui del PD perché noi vuole Renzi tutta questa battaglia tutta questa battaglia è stata fatta solo ed esclusivamente perché noi vuole Renzi perché Renzi è antipatico ma io mi domando e dico ma se vogliamo vincere una battaglia ci tagliamo i testicoli le sinistre dovevano mettersi tutti assieme cos'è sta storia di dividersi qua invece si sono divisi e tutti divisi il risultato il risultato è che la moglie la piange perché la galmarica non ha le balle questa è la verità di tutti i fatti cosa volete io vedo un tempo adesso che cosa farà la lega cosa farà la lega allora secondo il mio parere quando uno si presenta alle elezioni dovrebbe avere un traguardo eliminare i comprensori far più comprensori far più ospedali far più punti in assita eliminare i punti in assita fare fare il collegamento da trento con un'autostrada ditemi un programma un qualche cosa che ha proposto questa gente io non ho sentito bisogna difendere l'autonomia che l'autonomia è importante se non c'è l'autonomia esodo questo passo ragazzi io non lo so allora se le altre volte finivo questo questo breve flash con una considerazione con una proposta io vi dico la verità che questa volta proprio proposte non ne ho mi spiace mi spiace perché rimango del mio parere come l'alto adige a un partito forte che la cittirole for partai noi dovevamo puntare sul partito autonomista trentino sul pat questo è quello che noi dovevamo fare e che dovremmo fare e lasciare stare sinistra destra me gavriam termine che la chicca il mio in foro potremmo non può dirlo perché galla scresa di che me il fai oggi qua ci sta si si sottilizza vada petti per la tosse tanto per dirla ecco questo è quello che vogliono fare petti per la tosse come si diceva stiani dove le differenze ma che differenze ci propongono adesso mi piacerebbe sapere hanno messo tutti i cartelli non so se avete visto i compresori tu vai a roveretto un certo momento che il cartello compresorio del valle dei laghi no roveretto non so compresorio della valle lagarena arriva un val del sol compresorio della val del sol ma che cazzo me ne frega a me del compresorio del val del sol quel che vende a milano cosa ho che sappia del compresorio della val del sol ditemi che avete speso voglio sapere i soldi che hanno speso per mettere quei cartelli nessuno ha detto niente perché li va bene io avevo i compresori io avevo impiegati tutti gli uffici che vuoi rompere le palle all'iniziativa privata e rompete le palle all'iniziativa privata vedremo che cosa fa questo governo dopodiché rimango nel mio parere che le correnti di pensiero sono due divite ed imper dei latini di maria teresa e quel tale che si vale per far che dispetta alla sposa auguri